Un'interrogazione dei parlamentari veneti della Lega al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini per ribadire l'importanza e la necessità di riclassificare la strada provinciale 47 Varsugana da Padova a Cittadella e farla diventare statale, attivandosi affinché la sua gestione venga affidata ad ANAS per velocizzare le tempistiche di manutenzione e adeguamento. In prima linea, tra i firmatari dell'interrogazione presentata sia alla Camera che al Senato, c'è l'onorevole Germano Rachella. Non ci possiamo permettere un asseviario così importante che sia ridotto come è ridotto ad oggi. Asfalti da rifare, guardarai da sistemare, punti strategici pericolosi. Questa tratta, da Padova a Cittadella, costituisce un collegamento fondamentale alla rete delle strade statali e alla pedemontana Veneta, un tratto nevralgico che soffre da tempo per lungaggini nella gestione anche dell'ordinaria amministrazione. Dunque, Ministro Giovanini, è arrivato il momento di dare risposta a anni e anni di solleciti e con questo investire anche le risorse del PNRR per una sistemazione definitiva.